Super bonus e bonus ordinari sono da rimodulare ma sicuramente fondamentali per il riassetto del patrimonio edilizio italiano. Recentemente è stata ascoltata presso la Camera dei Deputati la rete delle professioni tecniche che in un'audizione ha ribadito un concetto ormai consolidato tra tutti gli addetti ai lavori e cioè che vanno un pochino rivisti quelli che sono i vari bonus presenti nel mondo dell'edilizia a partire dal super bonus per arrivare all'eco bonus, il sisma bonus ordinario, il bonus ristrutturazioni sono sicuramente da rivedere però hanno rappresentato e rappresenteranno anche nel futuro una leva fondamentale per poter riqualificare sia da un punto di vista energetico, da un punto di vista sismico il patrimonio edilizio italiano che ricordo essere un patrimonio edilizio particolarmente datato si tratta di un concetto molto molto importante che anche alla luce di quello che l'Italia verrà chiamata a fare nei prossimi anni ritengo sia molto molto importante per cui ho ritenuto utile fare un video a pubblicare un video ad hoc, mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare dell'edilizia, prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube cliccando sulla campanellina rimane aggiornato sull'uscita dei prossimi video, se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale, se vuoi sostenere il mio lavoro e nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati ora come sapete prima o poi dovremo un pochino adeguarci anche a quella che è la direttiva green che ci arriva direttamente dall'Europa, ormai la conoscono tutti come farà l'Italia ad adeguarsi a quello che ci viene richiesto dall'Europa? ricordiamo che l'Italia ha un patrimonio edilizio particolarmente vetusto di circa i 12 milioni di edifici residenziali presenti ricordo che circa il 64% è stato costruito prima del 1977 e il 20% tra il 77 e il 90 quindi l'84% del patrimonio residenziale edilizio italiano è ante 90 quando sostanzialmente non c'erano delle norme costruttive che tenessero particolarmente conto all'equilibrio o comunque al risparmio energetico degli edifici e al comportamento sismico degli edifici ricordiamo che l'Italia si trova in una zona a forte rischio idrogeologico per cui ci troviamo di fronte a un patrimonio edilizio su cui sicuramente bisognerà mettere mano come farlo? Allora in questa audizione come detto la rete delle professioni tecniche ha innanzitutto sottolineato un fatto molto importante cioè ha sottolineato quella che è stata l'importanza che i vari bonus hanno rivestito negli ultimi anni e non parliamo solo degli ultimi due anni ma sostanzialmente negli ultimi dieci anni da un punto di vista ad esempio del risparmio energetico basti pensare ad esempio che è stato stimato che grazie ai bonus presenti nel mondo dell'edilizia grazie sostanzialmente all'eco bonus tra il 2014 e il 2021 in questo lasso di sette anni utilizzando i vari bonus ordinari presenti c'è stato un risparmio energetico stimato in circa 11.150 GWh all'anno parliamo di circa un miliardo di metri cubi standard di gas successivamente poi con l'avvento del super bonus la spinta al risparmio energetico si è evidentemente fortemente accelerata e si è stimato che tra il 2020 e il 2023 in questi tre anni c'è stato un risparmio energetico di circa 14.000 e rotti metri cubi e gigovattora annui di gas quindi parliamo veramente di numeri molto molto forti e diciamo ovviamente si tratta diciamo il super bonus ha dato questa spinta fortissima chiaramente le professioni tecniche ha sottolineato come è chiaro che il super bonus è stato pensato ed è stato adottato in un momento particolarmente difficile e delicato ed è ovvio che va contestualizzato cioè il super bonus aveva ragione di esistere con quella liquida così alta in quel contesto, in quel momento così difficile diciamo in piena pandemia e non è una manovra che può essere portata avanti per un arco di tempo troppo ampio tuttavia è bene sottolineare come in Italia se si vuole rinnovare il patrimonio edilizio qualcosa bisogna pensare quindi magari bisogna rivedere i vari bonus presenti modulandoli in maniera un pochino diversa quindi sicuramente si dovranno cambiare le alicote sicuramente si dovrà pensare a dei bonus che vedano un arco temporale un pochino più ampio sul grosso limite del super bonus era quello che aveva una scadenza abbastanza limitata diciamo dentro breve tempo e in Italia quando si interviene su un edificio soprattutto un edificio condominiale i tempi anche per rispondere a quelli che sono i vari tempimenti a livello burocratico sono sempre piuttosto lunghi allora è evidente che in questo contesto è assolutamente necessario che ci siano degli incentivi di carattere fiscale che diano praticamente la spinta ad un intervento di miglioramento del patrimonio edilizio però questi vanno rivisti in che modo diciamo che è già stata data già il CNI ha dato sostanzialmente quello che è una linea di indirizzo su come potrebbero essere pensati i nuovi incentivi i nuovi bonus ordinari per esempio diciamo in linea di massima si potrebbe dire che una quota parte diciamo delle spese potrebbero essere finanziate attraverso il meccanismo della detrazione detrazione diretta quindi portandosi in detrazione parte delle spese in un arco di tempo un pochino più lungo di quello che era pensato fino ad oggi magari 15 anni in modo da andare incontro a coloro che non hanno una capienza fiscale particolarmente alta una quota parte della spesa invece potrebbe essere finanziata mediante un mutuo con scadenza molto lunga per esempio un mutuo trentennale in cui lo Stato si fa carico di tutta quanta la parte degli interessi e diciamo con l'applicazione quindi di aliquote particolarmente agevolate particolarmente facilitate in modo tale da venire incontro anche a chi non ha delle capacità economiche così importanti per quanto riguarda il discorso dei crediti di imposta anche qui Rete Professione Tecnica è intervenuta dando praticamente quelle che secondo loro sono delle indicazioni che dovrebbero essere eseguite per regolare un attimino il discorso relativo all'accessione dei crediti diciamo innanzitutto bisognerebbe diciamo andare a modulare la cessione dei crediti in modo tale da non consentire l'acquisto dei crediti a dei tassi particolarmente scontati questo per evitare dei fenomeni tra virgolette quasi di usura cioè comunque di persone che si vanno ad approfittare di una situazione che può diventare particolarmente urgente come ad esempio sta succedendo adesso in merito ai crediti imposti maturati col super bonus poi quello di creare una piattaforma unica per la gestione dei crediti senza fare intervenire degli advisor esterni che magari finiscono solo per complicare le cose per allungare i tempi di lavorazione delle pratiche quindi la cessione del credito monitorata dall'inizio alla fine da un'unica piattaforma poi la possibilità per gli operatori che sono abilitati di offrire i crediti fiscali acquisiti anche ai propri clienti professionali o privati e diciamo in modo tale da avere una gestione diretta dei crediti poi la possibilità per enti così previdenziali ordinistici di svolgere sia una funzione di garanzia nei confronti della cessione dei crediti che di acquisizione dei crediti stessi in modo tale sostanzialmente da far circolare dei crediti che siano sempre meno contestabili diciamo così quindi che una volta che un credito viene messo sul mercato è praticamente certo che si tratta di un credito legittimo che non possa essere contestato un domani dall'agenzia delle entrate poi delle norme molto ferre che disciplino in maniera molto stretta quelli che sono i comportamenti dei general contractor determinando in maniera molto chiara quelli che sono i vari ruoli e le responsabilità del general contratto stesso si tratta quindi di tutta una serie di indicazioni per poter controllare e gestire il sistema della cessione dei crediti in maniera più corretta e più lineare di come è stato fatto in passato e sappiamo tutti benissimo quelle che sono le conseguenze della gestione un po' leggera dei crediti d'imposta ecco queste sono delle indicazioni ovviamente la rete professionelle tecniche ha lasciato poi alla camera dei deputati un manuale con tutte le indicazioni del caso però il concetto fondamentale che è passato è ok il super bonus sta praticamente ormai per finire esistono ancora tanti bonus presenti nel mondo dell'edilizia sono fondamentali per dare una spinta al rinnovamento del patrimonio edilizio italiano sia da un punto di vista energetico che sismico quindi è bene mantenere i bonus e parliamo di bonus ristrutturazioni sisma bonus ordinario ecobonus ordinario e così via però vanno un attimino rimodulati e rivisti anche alla luce di tutte le difficoltà che abbiamo incontrato nell'arco di tempo del super bonus per esempio il super bonus deve fare da scuola per vedere cosa è andato bene e cosa invece va corretto vedremo quale sarà la risposta del governo che cosa ne uscirà se saranno ascoltate queste indicazioni fornite dalla rete professioni tecniche e vedremo nelle prossime settimane nei prossimi mesi quali saranno le iniziative che verranno prese in termini proprio di bonus dell'edilizia ovviamente vi terrò aggiornati per cui iscriviti al canale cliccando sulla campanellina rimane aggiornato sull'uscita dei prossimi video e se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale nei link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati ciao